musica 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 eh qui se avevo i monastic potevo portarmeli e mi porto allora dai facciamoci sto a serio musica 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 e perchè devo staccare 18 e 45 volevo fare prima delle mezza io musica musica soffro di insonnia avevo noia no no il pc sa benissimo anche la scrivania mouse e tastiere vanno cambiati quando li rombo la scusa certo a me sale nervoso quando laggo eh beh ma quello tutti raga cioè io non è che ho cioè ho una buona connessione a me non mi lamento più perchè con la gigabit problemi non ne ho il problema principale ragazzi è il il ping il ping è sempre alto cioè anche volendo il nei giochi come questi o comunque in altri non scendo sotto i 50 di ping e non è che siano ottimali quelli che so pro raga hanno tutti i ping 6, 3, 1 cioè c'hanno i server in casa quindi per esperienza se laggo sta con la proietta mi dispago tutto no no io una volta soltanto ho rotto mouse ma semplicemente ragazzi perchè durante una partita importante erano le ranked di quake champions mi si è fermato cioè non si muoveva più e ho perso malamente era uno al meglio dei 5 quindi già era l'ultimo risultato che potevo fare punteggio poi il tempo di trovare un altro mouse quello mi hanno quittato e ho perso la sfida e le bestemmie veramente ragazzi sono state tante e quella volta ho rotto il mouse però non era un mouse particolare ragazzi è un mouse di 10 euro ok primo colpo ragazzi mi è difficile crederci però dai ma se lo prendevo ragazzi lo spaccavo a quello lì ma sto sarò è dei nostri o no? troppo tempesta c'è oggi oh c'è uno col cavallo che sta sattellando lì? bastardo se ti prendo è mezzo esaurito ma se lo prendo ragazzi lo demolisco a sto stronzo guarda lì guarda lì come trollano aspetta io devo prenderli ragazzi oh madonna vai c'è una squadra di picchieri quasi di becco ragazzi che ti macino da lontano ormai devo farlo eh devo beccarli troppo basso stavolta vai 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 madonna per poco ragazzi per poco ragazzi si vede il negativo le esplosioni si vedono il negativo vediamo se riesco a prendere qualcuno da qui minchiavo non passa dai andiamo 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 vedi dopo un po' mi annoio a stare alla distanza devo andare a ammazzare gente da vicino no te 150 di ping le ranked raga ma che sei pazzo o mò o mò in position all in close order attack Units, servono flashati! Forse ombre! Quiet! Forse ombre! Forse ombre! Units, move in! Stain together! Units, assemble! Stain together! Braves! Bisognerebbe, ragazzi, prendere subito quel supply point! Dai, prendiamo territorio, forse! Guardate, ragazzi, se non vi leggo, eh! Ma il momento è critico! Le free battle sono piuttosto! Anche perché tutti abbiamo il meglio del meglio, ragazzi, eh! Non badiamo a spese! Abbiamo portato tutti i migliori uomini! Dai! Come, dai! Nessuno c'è qua dentro! Sì! 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 Oh, che cazzo mi hanno ammazzato? Maledetti i miei uomini con armi Le lance con regge più alto sono ottime in difesa, eh, lo so Però loro hanno i fucilieri Utilizzare soltanto le lance significa farsi marcellare con gli scudi Vatti i miei sono ritirati Ma me li riporto di nuovo, eh Me li riporto di nuovo E invece ci interessa prendere Subito I mannari, come li chiamo io, ragazzi, saltano le file Quindi Non sono fortissimi, ma saltano le file Spendiamoci subito Muro di scudi Supply point Cerichiamo la salute Stiamo già prendendo l'accampamento principale E direi di andargli e dare subito una mano Ciao, bello Anche tu vieni all'accampamento principale? No, vabbè Ma dove sono spawnati? Dai, dai Non vale così Non vale così Non vale così Da nulla, ragazzi Da nulla sono spawnati No, vabbè Così Grazie Siete bravi Cioè Sono arrivato io Sono passi Langeri E cavalleria Certo, provare a prendere B Potrebbe essere interessante Non c'è nessuno Guarda, guarda Attaccano le spalle Dai Non perdere tempo Prima che arrivano gli A Vediamo poi Super Pikemen Questi sono i picchi cinesi Sono una forza della natura Se ce le hai belle livellate Soprattutto la loro marcia È inarrestabile Quando partono, ragazzi Eh, la cere mi ha fatto fuori Sono vivo per miracolo Dai che abbiamo preso pure B Dai, andiamo Peccato che non ha approfittato nessuno Che l'ho buttato a terra No, 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 no Arriva, no, 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 no No, vabbè, raga Vabbè, così no, però Cioè le mie picche Si sono scontrate con le picche Avversarie in marcia E non sono riuscito più a mandarli indietro Infatti li sono fatti macinare Ma vaffanculo Li ho sprecati allaganti Ragazzi, vedete come cambiano le Le cose In battaglia Cioè già avevano avanzato loro Erano con la marcia caricata E io non sono riuscito a fermare l'interno Ma ti mi hanno Massacrati Dai, dobbiamo vingerla però questa Dai Abbiamo un bandaglio di 300 uomini E' dimostrato tanto l'accampamento principale Piazza quegli arcieri lì Adesso io mi porto i fucilieri stavolta E li piazzo Vediamo se riesco a metterli Eh, qua sopra Vediamo se riesco Vado all'ingresso Mi ha fatto spawnare Voglio i f by Ehi i i Poggio Nipro Pozzi Halla Lo Ehi Après Ehi Me Ehi Kalo 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 Ehi Si Ma Ma Ehi Ma Ehi 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 Guardiamo se mi difendono, vediamo se mi difendono E che cazzo gli mandi la cavalleria contro i picchieri, perchè? Eh sono piazzati i ragazzi molto bene Ritirata, ritirata, ritirata Finchia una tumbulata ma roba ragazzi Uno schiaffo mi è arrivato ragazzi, mi ha buttato te Però mi ha dato la kill, mi ha dato la kill Sette minuti ragazzi, sette minuti e abbiamo un vantaggio di 200 uomini Eh ci sono certuni ragazzi che sono buggati proprio Guarda qua ci sono rimasto fuo, che cazzo sta facendo fuo? Dai ammazzalo Perché l'ha ammazzato Un minuto di respawn Stavolta mi porto gli spear sergeant Perché non ho alternativa Lui sbaglia Sbaglia Perché lì c'è lo spawn Vuole sottragli il supply point principale L'unico rimasto Ma tanto spawneranno ugualmente da lì Anche se glielo togli Ai la live ritardo Eh prova aggiornare con F5 Dio Sono rovinati i pikemen raga Quell'unità non dovevo perderla così Io credo nella vittoria Certo, se mi fai spawnare sembra fuori però Forza Forza Allora io non attacco di trabocco ragazzi Ancora da fare E lo chiedo subito qua Vabbè l'ho ordinato malissimo Ma proprio male 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 Vabbia So Ri Si B è diventato la nostra puttana, muori! vieni qua, vieni qua, strutti! ti scanti ah, ti scanti! i miei uomini sono stati tutti macinati vivi ma che cazzo fanno, ma tutti i fucilieri c'ha, i balestrieri complimenti oh, avete portato tutti gli uomini valorosi vabbè si ma che cazzo aggiunge assistenza, che ormai... questa ragazzi stiamo rischiando veramente di perderla inutilmente ci vuole coraggio ragazzi a perderla così eh grazie Pietro per i tuoi 3838 necronium versati ragazzi sto minchia d'arcene mi fa un mare di danno dai, fallo qui aiii, veloce Poi nessuno ne ha un pezzo di cannone di merda da piazzare ARRIVANO CAZZO 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 Ma è andato a fan culo ragazzi non mi chiamo... questa è persa, malamente ragazzi persa in maniera assurda la perdiamo cosi ARRIVANO CAZZO E sono anche uno meno ARRIVANO CAZZO ARRIVANO CAZZO Ma è una roba Puoi personalizzare le tue unità esteticamente No perché Quello è giallo E sul tuo elevato Si sta come Stalin Con i diritti No no Quello è del colore Il giallo Lo vedi soltanto te Cioè Sono tutte blu le unità E il rosso è quello del nemico Per capire Quali sono le tue Da quelle dei tuoi compagni Eh Le fanno Di colore giallo Il giallo indica Questo sta giocando così Sta prendendo il sole L'abbiamo perso ragazzi Perché il nemico Basta ogni volta Mettere un piede All'interno dell'accampamento Per Per fregarci la partita E ancora arriva Cavalleria nemica No vabbè raga E' inside La tua sorella Inside Si passa la giornata Quello con la balestra Ammazzava la gente Così Inside Inside Persa malamente Ragazzi Stesso problema Che c'è sul War Thunder Esatto Beh ciao Scusate Scusate C'è traffico Sono andato Per morire Ragazzi Sono andato Per morire C'è ma Come cazzo si fa Ragazzi Come cazzo si fa Alla fine hanno Pariggiato i condi Tutte le unità In più GG Per loro Non è come Su Elisted Che va ad unità Presente all'interno No no Assolutamente no Tutto diverso Cioè siamo arrivati I sesti ragazzi Cioè Gente come Karzuya Quello lì Cioè non ha giocato Ragazzi Livello D Cioè 69 Cioè il nostro Uno dei più forti Non ha giocato Loro erano Uno meno Cioè questo Anche questo Ragazzi Vabbè questi saranno Cresciati entrambi Che per prendere Livello D Ragazzi Non devi giocare Proprio Infatti Partecipazione Zero Io ho fatto Almeno 109 Kilo Grazie a tutti